Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio sulla FIPILI in direzione Firenze coda per incidente tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino in direzione Pisa coda per la presenza di animali su strada tra Cascina e Navacchio segnalata pioggia tra Lastra, Signa e San Miniato. In a uno operai al lavoro tra Barberino del Mugello e Roncobilaccio in direzione Bologna. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto lavori di manutenzione nel tratto compreso tra Il Valico e Collagna. Sulla statale 64 Porrettana fondo stradale dissestato tra Pavana Pistoiese e Sasso Marconi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!